...di altezza molto elevata, quasi quella di Mimmo. Quindi da questo tu desumi che Peuceto è non messafico? Esattamente! Mi scusi, non presumiamo. Scientificamente siamo certi. Ora i fratelli Angela... ...quare è uno studio scientifico, mica presumiamo. Per esempio, vediamo un messapico... ...un messapico... ...un messapico... ...che entra nel trullo Peuceto. Non può, il messapico non può entrare, però l'unica possibilità è entrare di culo. Però di culo è un po' pericoloso, perché se dentro c'è un pauceto... ...quando ti abbassi, non è tanto igienico entrare. Adesso prova tu che sei dauno. Io dauno però entro di testa. No, non posso entrare di testa, perché hanno le corna. No, quelli sono i daini. Quelli sono i daini. Ma i daini derivano dai dauni. Ho i dauni dei daini. I dauni dei daini. Ma è tutto e due connute. Allora, intanto facciamo chiarezza su Peuceti, Dauni e Messapico. Cioè, insieme sono gli... Gli apigi. Gli apigi. Fanno parte del gruppo Iapigico. Tre tribù. E sono tre tribù. I dauni, i peuceti e i messapico. Come sono posizionati in Puglia questi insediamenti? Gli insediamenti della Daunia, praticamente i dauni stavano al nord della Puglia. Mentre i peuceti, nel centro alto barese, questo territorio, queste sono Cicale e Peucete. 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 Mentre il... Sì. La parte sud della Puglia era praticamente un insediamento messapico. Sì, messapico. In effetti i messapi sono molto alti, lo potete vedere. Sì, molto alti, molto anche più alti, non tanto alti, bene, bene, va bene. Fate vedere, fate vedere come si entra di piede, come si entra di piede, di piede, prima di tutto si bussa la porta, ecco, c'è nessuno? Allora, i peuceti erano diffidenti, non rispondevano, va bene, dai, bene, ecco qui, attenti alla testa, quando si entra, alla prossima, da Quark, dagli angeli, dagli angeli, e Mimmo Angela. Ciao. Ciao.